Ieri la ripresa degli allenamenti, da domani probabilmente si inizia a parlare di mercato e nel Casa Teramo il 2018 ricomincia sì ma senza fretta perché il prossimo impegno è ancora distante di 7 giorni e perché in questo frangente sono le possibilità di mercato a tenere banco. Dovrà arrivare un attaccante, ammesso che qualcuno, Ciro Foggia in pole position, parta. C'è stato un interessamento per Lorenzo Sorrentino che tuttavia non infiamma né la platea bianco-rossa né tanto meno il presidente Campitelli che se proprio deve tornare sul mercato vuole farlo per una punta che cambia un po' il volto della squadra altrimenti si corre il rischio di rifare gli errori del passato. La punta ormai ex San Benedettese, dallo stesso presidente Fedeli venne definito qualche settimana fa un giocatore di Serie D. L'occasione sarebbe stata più economica che tecnica e non è detto che comunque non possa arrivare ma il patron del Teramo rimane molto freddo sulla questione aspettando nelle prossime ore di incontrare Asta e Repetto per fare il punto della situazione. L'incontro che Sorrentino dovrebbe avere con la dirigenza del Teramo di fatto è solamente un'indiscrezione che per ora non trova conferme anche perché senza il rientro di Campitelli è impossibile procedere ad eventuali trattative. Poi ci sarebbe anche lo scorre in terza serie, 42 gare disputate e 6 gol. Insomma, il diavolo avrebbe bisogno di un apporto di reti superiore per centrare la permanenza in tempi brevi. Impossibile arrivare a giocatori in uscita come Nicola Ferrari o Gianmario Comi del Vicenza, l'ingaggio insostenibile per le casse del Teramo e allora il focus potrebbe spostarsi proprio sui giocatori che vengono dall'Inter regionale. Ma se Magrassi del Materica rimane un sogno proibito le altre big dei gironi in sud non sembrano voler far partire i loro bomber. Chi dovrebbe partire invece in casa Teramo oltre a Diallo è Lorenzo Polucci. Nulla da fare neppure nella seconda esperienza bianco-rossa per lui. Troppo poco spazio e la necessità di andare d'altrove è sempre via Pescara per trovare maggiore continuità. La società di Campitelli però dovrà comunque muoversi per prendere una pedina che possa numericamente sostituire Paolucci e che abbia piena consapevolezza di essere un'alternativa ai titolari. Per ora tutto tace, aspettando i primi colpi attesi però solamente per la prossima settimana.